Valeria e Francesco siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa. Io Francesco accolgo a te Valeria come mia sposa. Con la grazia di Cristo ti prometto sempre e ti fedele sempre. con la24 di Dio e alla sua Mub Know la Cosa, e alla sua Mubicina, e alla sua Mubicina. Io Valeria accolgo a te Francesco come mia sposa. Con la grazia di Cristo ti prometto sempre e sempre e sempre e sempre. E la gioia nella sa000 e la nostra gia e gli amica e gli amica e gli amica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.